La comunicazione ufficiale sarà data in una conferenza stampa, ma la notizia è già diventata di pubblico dominio. Dopo 52 anni di attività, Emmaus, che ha sede nel comune di Pergine e Laterina, chiude la comunità e l'attività. Finisce quindi la storia di una struttura molto conosciuta per i servizi di accoglienza e di supporto che ha dato a tutta la città di Arezzo e non solo. Progetti di solidarietà verso la Bosnia, mercatini solidali organizzati periodicamente, gestione dei primi centri di accoglienza, tra i quali quello di Villa Severi. Sono solo alcune delle innumerevoli attività che Emmaus ha svolto in questi anni. Un'esperienza che è stata importantissima per la provincia aretina sia in campo sociale sia in campo ecologico, economico e ambientale. La comunità era nata non solo con lo scopo di assistere i poveri e gli emarginati, ma anche di lottare contro le cause politiche e sociali della sofferenza, unendo solidarietà e giustizia. In questo momento viene spontaneo ripensare a coloro che hanno fatto la storia della comunità alla Terina, primo fra tutti Franco Bettoli, il suo fondatore. Si chiude quindi una pagina importante con grande rammarico per la comunità. Attualmente ospitava circa 20 persone che saranno ricollocate in altre sedie Emmaus in Italia.